A Monterosso, Calabro, le riprese del corto mentaraggio Il Sentiero, diretto dal regista Cosentino Gianfranco Confessore, nell'ambito del festival cinematografico L'Arte del Corto, giunto alla quinta edizione, promosso proprio dall'amministrazione comunale di Monterosso con l'intento di sostenere e valorizzare i territori e i talenti locali. La storia è ambientata nel paese di Monterosso, interessato da un incessante movimento tellurico. La situazione diventa più pesante quando alcune bimbe del paese cominciano ad avere uno strano sogno ricorrente, una figura indefinita e misteriosa che si aggira per le stradine del borgo. Una trama avvincente, sviluppata dal regista Gianfranco Confessore, compiaciuto della sua esperienza a Monterosso. Questo cortometraggio, questo corto, dalla durata di circa dieci minuti, racconta un po' la storia interpersonale della protagonista. Tramite l'escamotage, diciamo, antropologico del terremoto e della leggenda della Madonna che salvò la bimba qui di Monterosso, si vuole raccontare la storia di questo personaggio Giulia che vive questa sua ricerca personale fino ad arrivare a scoprire una sua verità. Quindi, diciamo, è proprio un momento di crescita del personaggio scienziato che arriva a Monterosso seguendo tutto un suo percorso e qui nella porta, noi la chiamiamo così, nel gate, nel cangello di Condolima o Condolima, come viene giustamente definito, trova un mondo molto particolare con una sua verità che poi scoprirete ovviamente guardando il corto. Ad indagare sulla vicenda, su richiesta del sindaco del parroco, preoccupati, arriva la scienziata Giulia Issel, pronipote del famoso geologo di origine ebraica Arturo Issel, interpretata da Daniela Fazzolari. Questo film è veramente un bellissimo esperimento perché chiaramente c'è una storia romanzata di fiction, ma che si interseca con quello che poi è la realtà dei nostri luoghi, quindi le leggende, piuttosto che le tradizioni, le superstizioni delle persone, dei luoghi, che però vanno a incrociare attraverso una magistrale, un magistrale uso anche degli effetti speciali, cosa che per noi italiani sono un po' più complicati da trovare, piuttosto che magari in America. Ecco, questo connubio tra finzione, effetti speciali e tradizione sta facendo di questo prodotto un qualcosa di veramente nuovo e sono felicissima di farne parte. Anche per lei l'arrivo a Monte Rosso ha rappresentato un momento di conoscenza e d'emozione? Beh, arrivare in un posto quasi di sera, svegliarsi la mattina e scoprire il posto dove sei, per me è una delle cose più belle di quando vado appunto in luoghi che non conoscevo. La meraviglia di scoprire in questo luogo, a Monte Rosso, un borgo così bello, così pulito, così curato, immerso in una natura così rigogliosa è stato veramente emozionante. Emozionante è scoprire che ancora esistono paesi che andrebbero molto più valorizzati, ma che sono veramente tenuti bene dai cittadini che la vivono, quindi è stato bellissimo davvero.